Riceviamo ormai quotidianamente segnalazioni dai nostri associati di attacchi persistenti della mosca olearia. Non sono più casi isolati quelli di chi si ritrova sulle piante di olive, vermi e bachi. Per questo invitiamo tutti gli olivicoltori toscani a concludere il prima possibile la raccolta delle olive. E' questo l'appello allarme che lancia Orlando Pazzagli, presidente di sezione di Confagricoltura Toscana, dopo il ritorno della mosca olearia a causa delle piogge e del caldo anomalo degli ultimi giorni registrato in Toscana. Purtroppo anche nella nostra provincia si stanno registrando delle forti riduzioni di quantità. Siamo sull'ordine del 30% della produzione standard, in alcune zone scende anche al 20%. Quindi quantità molto molto basse rispetto anche allo scorso anno. Le cause? Ma diciamo che le cause sono principalmente due. La prima è venuta meno la fioritura, o meglio durante la fioritura c'è stato prima. Una siccità e poi delle piogge con delle grandinate che hanno rotto gran parte della fioritura. E purtroppo successivamente si è rimanifestato anche quest'anno il problema della mosca. Quindi queste due cause insieme hanno fatto che si avesse una riduzione così forte delle produzioni. Tanti, soprattutto privati, non penso chi ha le aziende, ma insomma che decidono proprio di non cogliere. Sì, si sta registrando sia i privati purtroppo anche le stesse aziende agricole. Proprio perché andare a raccogliere un 20% del prodotto è molto faticoso e quindi anche molto costoso. Ragion per cui alcuni sono costretti a questa scelta difficile ma probabilmente necessaria. E per tante aziende agricole può voler dire un ulteriore tracollo economico e quindi anche finanziario.